Aspetta, tu Lion vuoi tenere la live per vederlo? No, adesso la tolgo un attimo Allora, vediamo un po' che cosa c'è dentro Poi vi faccio vedere, eh C'è un libro Allora, c'è un libro Nominato Foto di Pucci Oh no Allora, io apro il libro Occhio Dentro c'è un link Oh no Allora, adesso Preparati psicologicamente Apro il link Non apro il link perché ho paura Non voglio aprire il link Allora, cosa dobbiamo fare noi adesso? Io il libro me lo tengo Va preservato E lo nascondiamo Io voglio vedere che cosa c'è dentro Però devo farlo in un momento in cui sono preparato a tutte le possibilità Logicamente Sei seduto, tranquillo Seduto, sono seduto, tranquillo Un po' meno Un po' meno Va bene Abbiamo visto